Riformare la Regione, spendere presto e bene le poche risorse disponibili, ridurre le tasse. Sono queste le richieste per far ripartire l'Abruzzo messi a punto dalla CNA in vista delle elezioni regionali del 25 maggio prossimo. I dettagli sono stati illustrati dal Presidente regionale Italo Lupo che nei prossimi giorni avvierà una consultazione pubblica con i cinque candidati alla Presidenza della Regione. Innanzitutto una ristrutturazione dei costi della Regione, dei costi dell'amministrazione che risultano sempre eccessivi rispetto a quelli che sono poi i risultati e l'efficienza degli organi amministrativi. In tutti i sensi, io parlo sia della Regione che arrivare anche ai piccoli comuni e quindi una maggiore efficienza. Certamente c'è anche il discorso importante, quello della riduzione delle tasse. Gli argomenti sono tantissimi. Ricordiamoci, anche se non è di pertinenza della Regione, che le imprese pagano, e anche le famiglie naturalmente, altissime tasse per quanto riguarda le abitazioni, l'Imu, eccetera. Insomma, sono problemi che sono sulla pelle veramente degli artigiani e delle tutte le imprese, specialmente in questo periodo in cui le risorse a disposizione sia delle imprese che delle famiglie devono essere proprio mirate soprattutto allo sviluppo. Nel pacchetto di osservazioni e proposte, anche maggiore attenzione al potenziamento delle infrastrutture, alla ricostruzione aquilana e un freno alla grande distribuzione. In Abruzzo abbiamo la maggiore concentrazione d'Italia di centri commerciali. Tutto questo va a deprimere le economie dei centri vicini. Pescara sappiamo quali sono i problemi. Chieti è letteralmente, soprattutto Chieti città, Chieti alta, è letteralmente morta dal punto di vista commerciale, turistico. Insomma, è una città che sta declinando. Noi facciamo parte del regionale, a noi devono stare a cuore i problemi di tutto l'Abruzzo. In questo argomento ci mettiamo anche la ricostruzione dell'Aquila, perché sono passati cinque anni. Non credo che sia cambiato molto, anzi i problemi si sono acuiti. Ricordiamoci delle migliaia di imprese che vivevano all'Aquila e che sono a livello di puro sostentamento se non hanno chiuso. Per cui i problemi sono questi. Altro problema che vorremmo che il nuovo governo regionale portasse avanti è quello delle infrastrutture. decidere una buona volta quali devono essere i porti dall'Abruzzo, cioè decidere se deve essere Ortona o deve essere Vasto. Noi ci dobbiamo dotare di infrastrutture all'altezza della situazione. La ferrovia adriatica, insomma i problemi sono tantissimi e ci auguriamo che il nuovo governo regionale possa risolverlo in tempi brevi perché le imprese stanno morendo e le famiglie sono allo stremo. Grazie a tutti.